Edizione della notte del nostro telegiornale, bentrovati, in apertura c'è la politica perché si svolgeranno domani le primarie del Partito Democratico per la scelta del nuovo segretario regionale e anche per l'elezione dei 60 componenti dell'Assemblea regionale. La sfida caratterizzata fino all'ultimo da polemiche velenose ed accuse reciproche è tra le Renziane Michela Fanelli e Laura Venitelli. Ci dice tutto Giovanni Minicozzi. Tutto pronto per il duello rosa tra le due Renziane, Michela Fanelli e Laura Venitelli. In palio la conquista del vertice del PD molisano e la maggioranza dei 60 componenti dell'Assemblea regionale. Si voterà domani dalle 8 alle 20 nei 95 seggi distribuiti su tutto il territorio regionale e precisamente 59 in provincia di Campobasso e 36 in quella di Sernia. Come ha fatto sapere il coordinatore del comitato Antonio Battista il quale ha anche ricordato che sono primarie aperte a tutti ma i non iscritti per votare dovranno versare 2 euro e sottoscrivere un documento di condivisione dei valori ideali e politici del PD. Intanto le due aspiranti segretarie che si sono tirate per i capelli fino alla fine hanno lanciato il loro ultimo appello al voto. Pacati i toni di Michela Fanelli sostenuta a spada tratta dal presidente della regione Paolo Frattura e dall'assessore Vittorino Facciolla. Se vi fa piacere rifondare un partito democratico in questa regione totalmente in discontinuità con i metodi passati che sappia ascoltare il territorio, che rimetta dentro i valori della sinistra storica e che sappia anche connettersi col futuro senza steccati, senza ideologie della menzogna oppure della polemica come dall'altra parte in questa campagna elettorale è stata fatta. Se volete quindi un partito democratico dei contenuti e della proposta del rinnovamento e del radicamento territoriale, votate per la proposta che vede me a servizio Fanelli di questa idea di cambiamento. Un PD nei metodi diverso, un PD nelle proposte più capace. Frizzante e pungente invece l'appello di Laura Venitelli sostenuta dal segretario uscente Danilo Leva, dal presidente del partito Roberto Ruta e da Michele Petraroia, Massimiliano Scarabbeo e Francesco Totaro. Votare per me per avere poi dal 17 di febbraio un partito democratico unito che rappresenti lo strumento per una svolta in quella che è l'azione di governo che in questi ultimi 11 mesi ha visto delle difficoltà. Ci sono delle forze importanti, economiche importanti di questa regione che non vogliono che io vada a rivestire il ruolo di segretario di questo partito. Parlo anche di forze governative che sono arrivati addirittura a chiedere il voto a forze che non hanno a che fare col PD e con la sinistra. Mi riferisco alla richiesta di voto anche ai rappresentanti di Casa Pound. Questa cosa è un'offesa, un affronto ai molisani e un affronto agli uomini del centro-sinistra. Noi non abbiamo nulla a che fare con Casa Pando, noi non abbiamo nulla a che fare con Patricello. Il voto a me è un voto per conservare quelle che sono le radici del centro-sinistra e per conservare quello che è la volontà del PD di essere a fianco della gente, delle persone che hanno bisogno, a fianco di tutti coloro che stanno facendo la battaglia per la sanità pubblica, a fianco di tutti coloro che stanno facendo la battaglia per il recupero della centralità della politica molisana, del lavoro, dei diritti e dell'equità sociale. E Laura Venitelli che avete appena ascoltato ha chiuso a termoli la sua campagna elettorale per le primarie di domani per l'elezione del segretario regionale del Partito Democratico. La deputata ha ribadito che la sua è stata una candidatura partita dal basso e dall'agente, ricordando i temi del lavoro, della sanità e dell'ambiente, a differenza di quella dell'avversaria Micaela Fanelli, la cui candidatura ha affermato Venitelli al guinsaglio dei poteri forti. Inoltre ha fatto un bilancio della sua attività a Roma con l'impegno per questioni locali, annunciando anche un forte impegno per la tutela delle carresi. E continuiamo a parlare di primarie del PD perché gli organi centrali del partito hanno confermato l'esclusione dalla competizione per Cosmo Tedeschi, fatto fuori dai giochi perché ex vice segretario regionale dell'Italia dei Valori. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Ha fatto rumore l'esclusione di Cosmo Tedeschi dalla lista dei candidati che sostenevano Michela Fanelli per la segretaria regionale del PD, Tedeschi ex vice segretario regionale dell'Italia dei Valori. Questo sembra il motivo per cui è stato escluso Tedeschi? Ma ci sono state delle grosse imprecisazioni. In effetti io mi sono allontanato dall'IDV già da tanti mesi, da quanto abbiamo proposto il ricorso al TAR e al Presidente della Repubblica. Da 7-8 mesi seguo il gruppo Renzi, questo è risaputo, infatti abbiamo partecipato anche ai congressi comunali e provinciali, sempre con il gruppo Renzi e con la Fanelli. Quindi ad oggi io dico non mi interessa più di tanto la querelle che c'è sulla mia posizione di candidato o meno, non cambia proprio nulla. Io comunque farò parte della lista della Fanelli, farò parte della squadra della Fanelli, quindi non abbiamo nessuna difficoltà, la politica si può fare senza alcuna difficoltà. Non è che devi far parte per forza dell'Assemblea, puoi entrare in segreteria, insomma ci sono tante possibilità. Ma quello che interessa di più alla gente, ecco, non è la polemica se uno entra nella lista oppure sta al di fuori della lista. Quello che interessa anche a me sono le problematiche del lavoro che si devono affrontare. Vedi ITR che si stanno perdendo i 500 posti di lavoro, vedi Solagrital 700 posti di lavoro. Allora io inviterei più che altro queste persone che si sono accanite contro questa posizione a impegnarsi più per il lavoro, a impegnarsi affinché queste persone possano continuare a lavorare e il polo tessile ITR possa essere di nuovo una realtà per la provincia di Senna e per la Regione Molise perché ha dimostrato negli anni passati di fatturare 700 milioni d'euro. Allora questo interessa a me, lavoro per queste aziende e questo farò all'interno del PD perché poi vi assicuro sono stato chiamato sia da una parte che da un'altra, invitato sempre a partecipare nel PD, quindi va a finire che se stavo con l'altra squadra andava tutto bene, però insomma bisogna accettare anche il cambiamento. E cambiamo argomento ma rimaniamo nell'ambito della politica perché i tempi per il ritorno in Consiglio regionale di Michele Iorio sono dettati dalla legge Severino sulle liste pulite, questo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Vincenzo Niro. Sentiamo. Dopo la decisione della Suprema Corte che ha sancito la prescrizione per il reato di abuso di ufficio relativo alla vicenda Benenco, i tempi per il rientro di Michele Iorio a Palazzo Moffa sono quelli dettati dalla legge Severino sulle liste pulite. A precisarlo è stato il Presidente del Consiglio regionale Vincenzo Niro. Le procedure sono dettate dalla cosiddetta legge Severino, la 235 del 2012, dove all'articolo 8,5 stabilisce qual è la procedura. Abbiamo preso la notizia dagli organi di informazione, credo come tutti. Adesso aspettiamo che ci sia notificato il provvedimento, il dispositivo. Dopo la notifica c'è l'ulteriore passaggio per la pubblicazione del provvedimento. Fatta la pubblicazione nella prima seduta utile successiva, bisogna procedere alla sostituzione. Quindi che tempi si possono prevedere? Ma guarda, se non conosco quando arriva il documento ufficiale notificato per le vie ordinarie è difficile stabilire quali sono i tempi. Nel frattempo resta in carica Nicola Romagnolo? Beh, credo proprio di sì, a tutti gli effetti in carica. Non può essere sospeso su una cosa che ancora non è a conoscenza dell'amministrazione. E secondo lei cosa cambierà in Consiglio regionale con il ritorno di Michele Iorio? Io immagino che il Presidente Iorio, proprio dall'alto della sua esperienza e della sua conoscenza, può essere valore aggiunto ulteriore rispetto a quello che c'è oggi. In merito alla vicenda del rientro in Consiglio regionale di Michele Iorio, di cui si parlava, è arrivata la precisazione del consigliere di progetto Molise, Nico Romagnolo. Si era parlato anche di una sua iniziativa per opporsi al rientro in virtù dell'applicazione di questa sentenza. Non ho intrapreso nessuna iniziativa, detto Romagnolo, come sempre rispetto alle sendenze dei giudici, e confido nella corretta applicazione della legge. Intanto il Senatore Ulisse Di Giacomo ha presentato un'interrogazione al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Interno e degli Affari Regionali, per la rimozione del Governatore Frattura dal suo incarico, a causa della mancata promulgazione dello statuto regionale. Questo il motivo. In particolare il Senatore chiede di conoscere quale sia il motivo per il quale non si è proceduto con immediatezza nell'ambito delle specifiche competenze governative alla rimozione del Presidente dell'Aggiunta, responsabile di un atto palesemente contrario alla Costituzione, secondo Di Giacomo, che chiede anche quale sia il motivo per cui non si è provveduto allo sciolimento del Consiglio regionale per aver omesso di esercitare i poteri di controllo sul Governatore in considerazione della gravissima condotta perpetrata da tempo. Questo è quanto afferma Di Giacomo. Noi voltiamo pagina, torniamo in qualche modo a parlare della campagna elettorale per le primarie del Partito Democratico per l'elezione del segretario regionale. Michele Emiliano, sindaco di Bari e aspirante ministro nel nuovo governo Renzi che si andrà ad inserire, è stato a Campobasso per la campagna elettorale per la Fanelli, appunto per le primarie del PD. Allora vediamo l'intervista e sentiamo l'intervista di Anna Maria Di Matteo. È arrivato a Campobasso per sostenere la candidatura di Micaela Fanelli alle primarie. Michele Emiliano, sindaco di Bari, è tra i papabili a ricoprire l'incarico di ministro del governo Renzi. Dopo aver toccato i temi strettamente locali, nel suo intervento Emiliano ha poi posto l'accento su quanto sta accadendo a Roma in queste ore. Il messaggio che il PD deve lanciare è uno solo, bisogna fare le cose in fretta, e nell'interesse degli italiani. Solo percorrendo la strada del servizio il PD potrà riconquistare la fiducia dei cittadini, ha dichiarato. Naturalmente è un momento storico, uno snodo. Renzi ha gettato il dado oltre il rubicone e quindi stiamo a vedere che cosa succede. Naturalmente bisogna fare gli straordinari. Questo paese non si può più accontentare dell'ordinaria amministrazione. Serve qualcosa di unico che rompa questi vent'anni di mancato governo del paese. Un momento difficile, anche una sfida importante, quella che vi troverete ad affrontare? Io credo di sì, perché non si tratta di andare a scaldare poltrone. Si tratta di andare a fare la guerra, la guerra contro la crisi economica, contro il disagio degli italiani, contro la loro delusione. Cosa cambierà rispetto al governo Letta? Beh, innanzitutto il leader, nel senso che noi avremo un leader politico vero, autentico, non un semplice coordinatore dei ministri. E soprattutto cambierà, credo, anche la voglia di prendersi il rischio del cambiamento. Si arrabbieranno tutti, saranno tutti contrari, perché quando si deve cambiare in un paese che non cambia da mai, ognuno si sentirà leso di queste mutazioni. Noi lo sappiamo, noi sindaci, anche quando si chiude al traffico una strada succede la rivoluzione. Figuriamoci se dovessimo cominciare a spezzare quegli antichi privilegi e quelle antiche prerogative che in qualche modo stanno rendendo faticoso e non competitivo il cammino del paese. Lei viene dal mezzogiorno? Quanto spazio ci sarà per il rilancio del mezzogiorno? Questo spetterà soprattutto a noi meridionali stabilirlo, perché non è più tempo di andare a pietire col cappello in mano. La danno come probabile ministro, futuro ministro delle infrastrutture. Se così fosse, cosa pensa della Termoli San Vittore e dell'autostrada del Molise? Sarebbe facile dire che in questa fase bisogna fare tutto e il contrario di tutto. Ma io non sono il ministro delle infrastrutture e non mi pare il caso di mancare di rispetto ai molisani sparando chiacchiere come hanno fatto moltissime persone su questa strada. Quella strada prima la si fa e poi ne si parla. E cambiamo adesso argomento. La Regione non può sottrarsi al pagamento della fiduizione per l'ITR. A questo punto vale la pena inserirsi nella procedura concordatare e presentare un'offerta al giudice fallimentare magari insieme all'IKF di Milano. E' quanto ha detto il senatore Roberto Ruta di Sena nel corso di un incontro con i lavoratori e i fasonisti ITR e la delegazione parlamentare del Partito Democratico. Sentiamo. La Regione deve entrare nel capitale sociale dell'ITR visto che, comunque vada, i 12 milioni della fiduizione sarà obbligata a tirarli fuori. La novità viene da Roberto Ruta, l'annunciata nel corso dell'incontro a Isergia tra la delegazione parlamentare del Partito Democratico e i lavoratori e fasonisti ITR. Roberto Ruta lo aveva già detto a Roma davanti al Ministero delle Attività produttive proprio ai microfoni di Telemolise. Ieri la ripetuta Isernia, in sostanza, afferma il senatore del PD, visto che comunque vada, dovremo tirar fuori i 12 milioni della fiduizione, tanto vale tirarli fuori subito e farli fruttare. La Regione, secondo Ruta, dovrebbe avere un contatto con l'IKF di Milano per una nuova proposta di concordato che veda insieme Regione, investitori del Fondo Industriale, lavoratori e fasonisti, tutti con percentuali diverse, ma comunque con una gabbina di regia regionale. Il tutto, secondo il senatore, dovrebbe durare tre anni, il tempo sufficiente per far ripartire l'azienda e farla andare avanti con le proprie gambe. Un'ipotesi, quella presentata da Ruta, che indubbiamente ha la sua attrattiva, ma resta da capire se e come si raccorderà con le idee di frattura, che a più riprese ha escluso sia il pagamento della fiduizione che l'ingresso in società della Regione. In estrema sintesi, bisognerà verificare se l'idea di Roberto Ruta sarà fatta propria dal Governatore. Il Cipe ha sbloccato i fondi per il progetto della Granarolo-Grammanse, progetto ben noto, si tratta da parte del Cipe di un prestito agevolato, vincolato però all'approvazione del progetto da parte della Regione Molise. Intanto il Comitato non stalla, torna ad opporsi. Sentiamo Manuela Iorio. Torna alta l'allerta sul possibile insediamento del progetto della Granarolo in Basso Molise, dopo che il Cipe, nell'ultima riunione, prima delle dimissioni a Enrico Letta, ha approvato sette contratti di filiera, stanziando in tutto 197 milioni di euro, e tra cui compare anche la mega nursery da 12.000 vacche, che dovrebbe essere realizzata tra i terreni di San Martino e Larino. La notizia ha riacceso i riflettori sul progetto di cui non si parlava più del Consiglio monotematico di Termoli, dopo il quale il senatore Roberto Ruta aveva dichiarato che se non c'era il consenso del territorio andava tutto archiviato. La Granarolo, nel frattempo, ha recepito una serie di prescrizioni imposte dalla Regione e sta preparando un nuovo progetto che però deve essere ancora approvato. Va infatti precisato che i soldi concessi dal Cipe sono stati solo sbloccati su richiesta dell'Istituto di Sviluppo Agroalimentare e che sono comunque vincolati all'ok definitivo che spetta alla Regione. Si tratta in ogni caso non di un finanziamento a fondo perduto, ma di un prestito per la metà dell'importo, e dunque circa 10 milioni di euro, a un tasso molto agevolato, ossia dello 0,5%. Il Comitato non stalla, però, non ci sta e lancia ancora una volta un messaggio di dissenso verso un progetto che affermano nega uno sviluppo dell'agricoltura locale. Il Comitato fa appello a tutti gli amministratori locali e a tutte le associazioni, ma soprattutto chiede alla Regione la convocazione di una seduta monotematica del Consiglio in cui discutere e manifestare al Governo la contrarietà a un insediamento che sostengono nega il futuro del Molise. Il senatore Roberto Ruta se ne faceva cenno anche nel servizio ha ribadito che il progetto va archiviato, quindi non approvato da parte della Regione, in osseguo alla decisione democraticamente assunta dal Consiglio Comunale di Termoli. È il valore della democrazia che va sempre prioritariamente difeso, ha detto Ruta. Sul progetto Grammanza arriva anche il commento del capogruppo del PD Francesco Totaro, ribadisco la mia personale contrarietà e del mio partito all'insediamento delle 12.000 vacche che la Granarolo vorrebbe realizzare nel Basso Molise. Martedì prossimo presenterò in Consiglio regionale un ordine del giorno per impegnare l'ente ad esprimersi negativamente sul progetto. Anche il Consigliere di Forza Italia, Consigliere regionale Cavaliere, chiede che l'Aula di Palazzo Moffa venga coinvolta fino in fondo su questo controverso progetto. Ovviamente c'è anche la contrarietà di questo partito. Cambiamo argomento, neanche la risposta ad una interrogazione parlamentare è servita a plagare le polemiche sull'installazione dell'autovelox di macchia di Sernia. Al contrario, lo spostamento di un segnale stradale potrebbe avere risvolti giudiziari. Questo è stato detto proprio ad Isernia durante una conferenza stampa di associazioni e sindacati che tra l'altro hanno contestato anche l'accordo che riguarda i precari della protezione civile. La risposta all'interrogazione da parte del Vice Ministro dell'Interno Bubbico non ha convinto neanche un po' le associazioni che da mesi stanno conducendo una battaglia contro l'autovelox di macchia di Sernia, a loro avviso illegittimo. Sono ancora molti dubbi da chiarire. Né un ministro, è il parere del sindacalista di Schiavi, può limitarsi a chiedere un parere alla Prefettura di Sernia, direttamente coinvolta in questa vicenda e più volte bersaglio di sindacati e associazioni. Sembra che si chieda all'acquaiolo se fresca l'acqua. Cioè, è chiaro che hanno riferito che è tutto a posto, ma non è così. Perché, guarda caso, il segnale di 70 km orari, che dovrebbe stare a un chilometro di distanza, o meglio, l'autovelox dovrebbe stare a un chilometro di distanza dal segnale, è stato manomesso ed è arrivata proprio dall'ANAS la risposta che quel segnale è stato manomesso dai gnoti ed ancora non viene ripristinata e l'ANAS ha dovuto sporgere anche una denuncia alla Procura della Repubblica contro questa manomissione. Quindi, questo ci conferma ancora una volta che la segnaletica non è regolare. Probabilmente non è regolare a causa di gnoti che l'hanno spostata, ma a me mi sembra che gli gnoti l'hanno spostata per regolarizzare un autovelox che, come detto, regolare non è. Il sindacalista Isernino è impegnato anche su un altro fronte, quello dei precari della protezione civile. A suo avviso, il recente accordo siglato alla Prefettura di Campobasso è carta straccia. Ho fatto una riunione presso la provincia con i lavoratori e tutti quanti mi hanno dato mandato a fare una diffida all'amministrazione regionale e alla protezione civile che non si deve andare avanti con quell'accordo perché, prima cosa, è un accordo illegittimo e poi è comunque un accordo avvenuto senza il consenso, senza l'informazione ai lavoratori. Voglio precisare che il sindacato rappresenta i lavoratori e non può fare di testa sua. Si trova di fronte a un tavolo e firma gli accordi senza aver informato prima i lavoratori. Botte risposta fra Cigelle e Cisleville e il Comitato dei precari della protezione civile in merito all'avvertenza che riguarda 130 lavoratori per i quali si sta cercando una soluzione per evitare che restino senza lavoro. Il Comitato ha diffidato l'Agenzia e la Regione Molise a non dar seguito all'accordo fino a quando non verranno chiariti quali sono i criteri di assunzione o rinnovo dei contratti e la loro proroga. Se tale accordo è legittimo, se il personale manterrà il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Agenzia durante il biennio al quale fa riferimento l'accordo e ancora se non vi è discriminazione relativamente all'eventuale assunzione di personale infungibile microzonazione, la risposta dei sindacati non si è fatta attendere a prendiamo con disappunto e sconcerto le estenazioni a firma del Comitato dei precari della protezione civile che ha partecipato ai tavoli di trattativa non avendone la titolarità aveva condiviso tale accordo, oggi dichiara contrarietà, non c'è noto quali interessi si celino dietro questi comitati autoreferenziali, senza tale accordo hanno concluso i tre sindacati l'alternativa sarebbe stata il taglio di 130 lavoratori Voltiamo pagina, il masterplan di Campobasso va rivisto è la posizione di Lega Ambiente che dice no alla cementificazione selvaggia Sentiamo Il masterplan di Campobasso, il progetto per la realizzazione della sede unica della Regione è stato tra gli argomenti affrontati nel corso del direttivo di Lega Ambiente un progetto che a giudizio dell'associazione ambientalista va rivisto no alla cementificazione selvaggia è stato ribadito con forza Sull'edificazione dell'area del Vecchio Romagnoli e del recupero dell'area Roxy si parla ormai da anni è una questione diventata annosa, nel frattempo però la città si è evoluta non è più quella di quando la Regione acquisì quest'area e dunque vale la pena di ripensarlo questo masterplan per quanto bisogna trovare un contemperamento di interessi perché nessuno può negare che quell'area è di proprietà della Regione quindi se quello che ha detto il presidente di Laura Frattura allora candidato risponde al vero ci aspettiamo che di quell'area si faccia un'area contenitore ma che dia respiro alla città che possa restituirle spazi verdi che possa dare una ricucitura con quella che è l'area diciamo dello Scarafone che sarebbe il vero parco urbano il parco naturale della città di Campobasso l'argomento era stato affrontato nel corso di una delle ultime riunioni del Consiglio Comunale di Campobasso ai lavori avevano partecipato anche il presidente della Regione Frattura il consigliere regionale Cotugno in quella sede il governatore aveva annunciato alcune modifiche al progetto originale quello previsto dall'accordo di programma siglato tra il Comune e la Regione dell'allora presidente Iorio questa è la posizione di lega ambiente di Laura Frattura si rende conto da architetto che è insomma improponibile la cementificazione dell'originario masterplan tuttavia non è pensabile che si cementifichi l'area del vecchio Romagnoli a nostro parere quindi bisogna trovare un contemperamento di interessi io credo che sia proponibile il recupero dell'area del Roxy forse delle gradinate recuperando degli spazi che non vadano ad incrementare però la cubatura che è già esistente e che non occupino il vecchio Romagnoli che deve diventare diciamo piazza grande piazza per la socializzazione e piste ciclabili pensiamo a questo perché Campobasso è una città disumanizzata e Campobasso è la città delle macchine i pedoni non hanno posto dove passare camminano sulle tangenziali si fanno le rotonde ma i pedoni non esistono continuiamo a parlare di Campobasso perché la giunta comunale ha approvato il piano delle opere pubbliche per il triennio 2014-2016 opere che prevedono un impegno di spesa di 48 milioni di euro di cui 30 sono iscritte nel bilancio di quest'anno sarà coinvolto l'intero territorio cittadino dal centro alle periferie fa sapere il capogruppo dell'Udc Michene Ambrosio dalle contrade sino alla frazione di Santo Stefano sia con interventi singoli che nell'ambito di contratti e programmi complessivi sono 67 le schede progettuali tra le quali quella che riguarda la viabilità e l'arredo urbano di piazza Primo Maggio e quella che riguarda il collegamento pedonale fra piazza Musenga e la futura piazza San Giorgio due interventi questi proposti dallo stesso consigliere Ambrosio e per i quali sono previsti stanziamenti per complessivi 300 mila euro cambiamo argomento le delegazioni di alcune scuole provenienti da 5 paesi europei in questi giorni sono state accolte dal liceo linguistico di Serna nell'ambito del progetto Comenius sentiamo un'importante occasione per confrontarsi con ragazzi di culture diverse ma anche per mettere in pratica le conoscenze acquisite tra i banchi di scuola a partire dall'inglese la lingua che permette di comunicare in tutto il mondo è proprio questo il senso dell'esperienza vissuta dai ragazzi del liceo linguistico Vincenzo Cuoco di Serna protagonisti del progetto Comenius in questi giorni hanno ospitato i loro coetanei provenienti da Finlandia, Turchia, Polonia, Germania e Francia per loro è stato organizzato anche un incontro al comune è un progetto importante perché noi ci muoviamo in una logica della integrazione europea del confronto tra culture e soprattutto liceo linguistico deve proporre queste occasioni perché consentono anche di sperimentare le competenze sul campo si parla inglese, si parla francese e quindi è giusto che questi ragazzi che fanno un percorso di approfondimento delle competenze delle lingue straniere contattino e frequentino ragazzi stranieri i sistemi scolari sono indubbiamente diversi il livello di competenza nella patronanza della lingua inglese soprattutto sono sostanzialmente omogeni anche loro hanno le loro incertezze, i loro punti di forza come i nostri ragazzi ma queste occasioni rappresentano proprio lo stimolo per fare meglio e di più gli ospiti hanno molto apprezzato l'accoglienza ricevuta in città mentre tra le visite è rimasta impressa quella al museo del paleolitico gli alunni sono stati veramente sorpresi nel vedere questo sito così antico e questi resti di animali preistorici quindi è stato molto interessante questo invece è il progetto che stanno portando avanti è un progetto che riguarda lo stile di vita degli adolescenti ma gli adolescenti non solo quelli attuali ma messi a confronto con due diverse generazioni genitori e nonni una notizia di cronaca hanno tentato di rubare un incende quantitativo di cavi di rame ma sono stati bloccati dai carabinieri di campo marino ed arrestati vedete nelle immagini la rifurtiva i due persone di 24-30 anni residenti a San Giacomo degli Schiavoni sono stati intercettati dai militari nella zona di Nuova Cliternia mentre cercavano di dileguarsi a bordo di un'auto piena di cavi di rami carabinieri hanno fermato i due che hanno tentato in vano la fuga secondo una ricostruzione dei militari di campo marino e di termoli il rame avvolto in 18 bombine da 5 quintali sarebbe stato strappato sulla linea ferroviaria termoli-larino cerimonia di consegna della borsa di studio intitolata alla memoria di Mimmo Massull all'istituto tecnico-economico Pilla di Campobasso durante l'evento alla presenza delle autorità sono stati premiati gli studenti che hanno ottenuto i migliori risultati nel passato anno scolastico sentiamo Giuseppe Carrera è un raro esempio di micenatismo del terzo millennio che testimonia come anche in un'epoca complessa come quella attuale alcuni valori rimangono sempre in primo piano e che da un fatto di cronaca una tragedia che anni fa strappò un ragazzo troppo giovane alla vita possono nascere i frutti positivi legati alla valorizzazione dei talenti la famiglia di quel giovane, il compianto Mimmo Massullo da allora mette a disposizione ogni anno la somma di 5.000 euro da dividere tra i migliori studenti della scuola che lui frequentava l'istituto Pilla di Campobasso un tragico evento ha portato via all'affetto dei suoi cari Mimmo e Mimmo era un nostro ex alunno il papà ha voluto istituzionalizzare un'offerta dallo scorso anno per cui ci dà un contributo di 5.000 euro all'anno e noi dividiamo in tre tranche per premiare il miglior esito del primo biennio secondo biennio e il miglior risultato della maturità è una cosa che riteniamo possa servire speriamo da stimolo ai nostri ragazzi affinché iniziano a credere sperando che poi anche altri intorno facciano la loro parte e che il merito paga prima o poi Anche Luca, il fratello del compianto Mimmo si è diplomato l'anno scorso con il massimo dei voti proprio al Pilla di Campobasso e sottolinea come questa iniziativa può essere davvero una spinta per i ragazzi che credono nello studio Abbiamo istituito questa borsa di studio per incentivare gli studenti a fare del loro meglio per aiutarli anche per coloro che hanno magari delle difficoltà che magari non possono continuare gli studi perché non hanno abbastanza soldi anche in questi tempi di crisi quindi questo è stato il nostro primo pensiero oltre a quello naturalmente di ricordare mio fratello Chiudiamo con due appuntamenti è tutto pronto per il primo incontro delle maschere etniche zoomorfe d'Italia in programma a Tufara domani pomeriggio la sfilata con il diavolo di Tufara e le maschere ospiti provenienti da Sardegna Basilicata Puglia dalle Alpi anche da Ielsi e Castelnuovo al Volturno a seguire alle 18 rappresentazione in piazza Garibaldi e sarà invece una serata dedicata a gusto musica e solidarietà quella in programma domani sera al Coriolis di Ripa Limosani una serata in cui parte del ricavato sarà devoluto ad opere di solidarietà e di evangelizzazione in Etiopia grazie all'interesse di padre Luciano Proietti custode dell'eremo di Sant'Egidio a Frosolone il menu sarà caratterizzato al Tortufo molisano mentre ad esibirsi sarà una delle più importanti realtà italiane nella musica da ballo l'orchestra Bagutti ed era anche l'ultima informazione del nostro Tg della Notte che andrà in replica fino alla rassegna stampa di domattina alle 8.30 grazie a voi per aver scelto l'informazione di Telemonise buonanotte grazie a tutti grazie a tutti